Mister D'Amelio, oggi è partita soffertissima, una vittoria che vale doppio. Oggi sì, una vittoria che vale doppio. Prima di tutto, lasciami fare i complimenti al Merello, perché è veramente un'ottima squadra, ha fatto un gran bel primo tempo, se finiva tra 0 per l'ora il primo tempo non c'era niente da dire. A fine primo tempo abbiamo parlato un po' con i ragazzi di spogliatoi, i ragazzi hanno capito gli errori che hanno fatto, sono entrato di campo un po' più convinti, hanno giocato un po' più semplice, siamo riusciti ad entrare dentro, e abbiamo ribaltato una partita molto difficile da riguardare. Il Merello è una squadra che secondo me farà parecchi punti, perché corrono, sanno quello che vogliono, gioca veramente bene. Noi siamo stati bravi e questa partita deve servirci, ci siamo stati bravi a capire che possiamo ribaltare le partite solo se facciamo il nostro gioco. Quindi importanti 9 punti, andiamo avanti così e bene, dai. Grazie Mister.